Il mio nome è Marco, lavoro a Laio Searchers. Laio Searchers è una società a responsabilità limitata che si occupa di raggruppare ragazzi stranieri e ragazze stranieri che vorrebbero... Your Searchers! Sì, un attimo notifica. Ah, c'è già un'iscrizione! Bene, va bene. Allora, stavo dicendo che si occupa di raggruppare ragazzi stranieri e ragazze stranieri provenienti da tutto il mondo che vogliono venire in Italia... Your Searchers! Dieci notifiche in dieci secondi! Dai, stiamo andando bene. Allora, stavo dicendo, è una società a responsabilità limitata che si occupa di raggruppare ragazze e ragazze stranieri provenienti dall'estero e che vogliono fare un'esperienza formativa in Italia. Loro vivranno nelle famiglie e le famiglie daranno loro un piccolo lavoro... Ah, Your Searchers! Sate? Venti notifiche! Cinquanta! Speriamo di non doverle controllare tutte. Vabbè, dicevo, la Your Searchers si occuperà di trovare loro un piccolo lavoro cosicché verranno anche sostenuti dalle famiglie stesse. Ed è quella cosa importante che così facendo noi vogliamo valorizzare il nostro bellissimo territorio e vogliamo che loro migliorino con le loro competenze nella lingua italiana. Cento? Duecento? Trecento? Mille? Oh mamma! Speriamo! Your Searchers! Grazie a tutti! Questo è il nostro lavoro!